le gambe chiuse insieme la schiena è dritta perfetta sollevo il braccio sinistro e davanti lo alzo lo apro giro a sinistra guardo il muro dietro prendo la sedia prendo la sedia giro 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 in questa posizione curvo la schiena 1 la stendo e vado ancora più dietro muoviamo il collo chiudo la testa 2 torniamo dritti sollevo il braccio torno avanti bene abbasso il braccio vado avanti giù mi prendo le caviglie butto fuori l'aria appoggio le mani sul pavimento molto avanti molto avanti stacco glutei e stendo le gambe espiro l'aria vado su alzo i glutei vado su 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 due gambe chiuse insieme stese sollevo la testa guardo il soffitto salgo con la schiena dritta guardo il soffitto salgo con la schiena dritta dritta completamente dritta appoggio le mani sopra i glutei dietro spingo il bacino avanti vado dietro con le spalle benissimo torniamo dritti apriamo le braccia solleviamo verso il soffitto andiamo avanti più lontane possibile pieghiamo le gambe schiacciamo il corpo sopra le cosce prendi le caviglie tira 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 appoggia le mani sul pavimento 1 appoggia i glutei sopra la sedia espira l'aria trova la tua posizione usa le braccia cerca cerca giù 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 saliamo curvando piano 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 dritta la la colonna vertebrale stop stop prendi le braccia